Qual è la sua valenza? La valenza è quella di rendere all'esterno maggiormente controllabile l'attività con cui le amministrazioni gestiscono i fondi pubblici, quindi con cui spendono i soldi dei contribuenti. Il settore della contrattualistica, quindi degli appalti, naturalmente fa da principe dal punto di vista della spesa delle amministrazioni. In questo caso la trasparenza, l'accessibilità a tutti i dati e anche a tutte le fasi del processo di spesa dell'amministrazione, quindi dalla volontà al contrario, la diremia al contrario, al bando, poi anche addirittura oggi abbiamo l'onere di pubblicare le commissioni di gara, i curriculum dei commissari di gara, quindi anche come si scelgono i commissari di gara e via via, fine al pagamento finale del contratto, diciamo garantisce, almeno dal punto di vista formale, ma direi anche sostanziale, la conoscibilità massima all'esterno dell'attività dell'amministrazione e quindi un giudizio di sindacato, un sindacato dall'utente dell'utente esterno anche di come l'amministrazione opera.